Vedete, adesso cerchiamo di capire i movimenti che devo fare, la tecnica che utilizzo da una vista un po' più laterale, un po' meno. Eh, là sotto e avanti ancora. Bella questa. Mi specco rotto, non ho più corde. Non ho più racchette. Ok, vedete, adesso cercherò comunque di cambiare, di fare qualcosa di sensato in questo video perché sennò esce una schifezza. Ci proverò. Proverò a cambiare col braccio la rotazione che devo dare alla palla. Con questo. La faccio girare. Faccio girare. Faccio girare. Porta. Avanti, spingo dentro. Ovviamente l'ho tirata in rete. Tanto è il mio tempo. Ok, quindi rimbalzo la palla, spingo. Poco tempo. Uno, due. Se no, aspetto che la palla arrivi, scenda un po' e poi la rigioco. Non sono un professionista. No, aspetto che la palla, scenda un po' e poi la palla, scenda un po' e poi la palla. Non ci chiedono scelte, scelta un po' e poi, scendo un po' e poi la palla. Anche.